Ciao a tutti amatecnologi, oggi parleremo di un argomento che spero possa interessarvi e che riguarda Amazon, in particolare le recensioni di Amazon perché per chi acquista su Amazon le recensioni sono probabilmente una delle cose più importanti che ci danno il metodo di giudizio sul fatto che un prodotto sia valido oppure no e quindi è importante cercare di interpretarle nella maniera più giusta. Oggi ci focalizzeremo in particolare sulla presenza dell'acquisto certificato questa digitura che vedete qua e che è presente quasi in tutte le recensioni tranne che nella prima, quella di Max ho preso un prodotto a caso, ad esempio l'Allegro Chirurgo, giusto per farvi capire la differenza Cosa vuol dire quindi quando è presente acquisto verificato? Vuol dire che Amazon ci sta garantendo sostanzialmente che quel prodotto è stato acquistato sullo store ci garantisce però anche un'altra cosa che secondo me molti non sanno e che è molto più sottile e che capiremo meglio tra poco cosa vuol dire invece quando non è presente la digitura acquisto verificato? Ora ci sono due casi sostanzialmente il primo è che chi ha comprato quel prodotto l'ha comprato da un'altra parte quindi non l'ha comprato su Amazon, l'ha comprato da un'altra parte ma ha comunque voluto inserire una recensione questa cosa è possibilissima ed è Amazon stessa che nelle pagine di assistenza ce lo dice io posso inserire una recensione su qualsiasi prodotto semplicemente avendo fatto un acquisto su Amazon che mi dà diritto appunto fare le recensioni perché fa questa cosa Amazon? Beh probabilmente per aumentare il numero delle recensioni che va a vantaggio di chi compra ma anche per il fatto che io probabilmente se ho comprato un mouse nel negozio su casa mia e l'ho utilizzato so automaticamente se quel mouse vale oppure no indipendentemente dal fatto che me l'abbia spedito Amazon quindi ci sta il fatto che Amazon permetta di fare una cosa del genere il secondo caso invece è molto più sottile ed è collegato appunto alla presenza dell'acquisto verificato ovvero Amazon toglie la dicitura acquisto verificato se chi ha acquistato su Amazon l'ha fatto però usufruendo in uno sconto molto particolare e anche questa cosa è ben specificata sulle pagine di assistenza e vi leggo il paragrafo una recensione contrassegnata come acquisto verificato è quando ci siamo assicurati che l'autore della recensione abbia acquistato il prodotto su Amazon e fin qui tutto bene e non abbia beneficiato di uno sconto significativo sul prodotto quindi se io ho acquistato su Amazon ma ho usufruito di uno sconto particolare dove questo sconto poi bisognerà vedere e capire effettivamente Amazon cosa intende però se ho usufruito di queste condizioni particolari allora non avrò la dicitura acquisto verificato quindi questa cosa è molto importante perché per due motivi il primo per il fatto che comunque il giudizio di chi sta recensendo secondo me è falsato o può essere falsato se io acquisto un mouse a 100 o lo acquisto a 50 il mio giudizio sarà comunque in funzione del prezzo a cui l'ho acquistato ok? l'altro motivo è per secondo me disincentivare una pratica che avviene in particolare dai venditori cinesi o comunque orientali che sostanzialmente per spingere le recensioni per cercare di aumentare il numero di recensioni dei loro prodotti contattano gli utenti proponendogli magari un acquisto a condizioni particolarmente agevolate o quasi gratuita diciamo e quindi l'utente che riceve questo prodotto ad un prezzo veramente di favore tendenzialmente farà una recensione non dico totalmente positiva ma tendenzialmente positiva e questo secondo me è un fattore molto importante perché è molto sottovalutato e potrebbe portarci in inganno quando facciamo un acquisto su Amazon è tutto per questo argomento se vi è piaciuto come al solito vi invito a mettere un like condividerlo ma soprattutto iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao